Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube, segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Buongiorno, ben trovato a Michele Putrino con me. Ciao Michele. Ciao Beatrice, buongiorno. Allora, scrittore e naturalmente fondatore della Scuola Stoica, io saluto e ringrazio Michele perché tra l'altro, come già detto in più occasioni, stiamo condividendo questo progetto che esportiamo, diciamo così, live in tutta Italia. Quindi grazie a tutti quanti quelli che già ci stanno seguendo, quelli che lo stanno facendo, devo dire anche con grande passione, spirito d'iniziativa. Coloro che scrivono e mi iscrivono, quindi ricordo direttamente chiocciola beatricesilenzi.it per poter organizzare insieme queste cose. Perché immagino che siamo arrivati a un punto di svolta, un momento molto importante a livello sociale, questo l'abbiamo ben capito. Diciamo che qualcuno lo definisce anche epocale, visto che allo stato attuale di come stanno verificandosi gli eventi, c'è sicuramente forse più pessimismo riguardo a qualcosa che probabilmente accadrà, perché in realtà è un po' come se noi ci fossimo adagiati su una staticità. Quindi alla staticità che era pre-Covid, in cui, l'abbiamo detto tante volte, c'è stato un po' un appiattimento di quelle che sono le nostre aspettative, le nostre visioni del mondo, della vita, di quelli che sono i nostri valori, è seguito un momento di grande paura, di grande problematica emotiva, per cui ad oggi l'importante è che si stia abbastanza bene per poter dire sono felice. E quindi questo è una cosa che noi invece in realtà dovremmo cercare di scardinare. Michele, a te così magari introduci il nostro argomento di oggi. Sì, no, volevo dire, è molto bello quello che hai detto, perché cogli un concetto importantissimo, cioè la gente tende ormai solo a pensare di essere felice, nel senso molto lato, che in realtà poi si tratta solo di soddisfare degli impulsi basilari. E se ci pensiamo non è vita questa, cioè tu devi avere una funzione nel mondo, devi sentirti, per sentirti vivo devi avere uno scopo, una funzione, una missione da compiere. Che poi, come Giacchi segue un po' questa rubrica, ma anche altri video, chi ha letto magari i miei libri, sa che il fondamento dello stoicismo è proprio questo, cioè guardare il mondo come, diciamo, un grande campo di battaglia, e dove noi siamo dei soldati, dei guerrieri che devono compiere una missione che gli è stata assegnata. Questa è un po', in estrema sintesi, la visione dello stoicismo. Lo stoicismo è quello strumento che poi serve a forgiarti, a darti le basi per diventare questo guerriero che deve combattere queste battaglie quotidiane. Infatti non a caso, diciamo, pure, no? Ho un atteggiamento stoico, ha avuto un atteggiamento stoico. Bene, è esattamente l'opposto poi di quello che hai, diciamo, denunciato tu in questo momento, nel senso che non è certo il soddisfare il momento piacevole in quel secondo, e così via, che per carità ci sta, ci sta andare a fare ovviamente una passeggiata, rilassarsi, andare in pizzeria con gli amici, che è assolutamente fondamentale, anzi come vedremo adesso subito eppure un concetto molto importante, ma bisogna avere una visione generale, guerriera, alta della propria esistenza. Ebbene, quindi di conseguenza però c'è un altro aspetto molto importante che non viene mai toccato, che è invece l'argomento di questo video, che è quello che l'essere umano non può combattere da solo. Noi siamo fatti per vivere insieme ad altre persone. Purtroppo, se noi andiamo a guardare le filosofie dominanti oggi, sono o iperaltruistiche, in maniera folle, fino a scadere nel cosiddetto buonismo, dove tutti devono essere salvati, tutti devono essere buoni, tutti bravi, deve esserci questo concetto del mondo universale, della globalizzazione, dove siamo tutti fraterni, fratelli e sorelle, ecco siamo questa visione, oppure al contrario, viceversa, quello ad esempio del capitalismo to cure, quello crudo, quello dell'imprenditore o del banchiere duro, o dello spietato affarista, o ancora del semplice impiegato a cui non frega niente se non se stesso, e pensare solo a soddisfare i propri impulsi primordiali, e quindi all'egoismo più assoluto. In realtà l'essere umano non è né un egoista assoluto, e non può esserlo, infatti chi è egoista veramente sta male, è ovvio, anche se non lo ammette mai, però è un dato di fatto, se vi ricordate la serie Dottor House ad esempio, era un egoista assoluto, anche se in realtà dentro cercava altro, ma stava male, perché? Perché l'essere umano non è fatto per vivere da solo, non a caso cerchiamo la compagnia, cerchiamo amici, cerchiamo di stare insieme ad altre persone, anche a trascorrere una serata insieme, con un partner, con una persona a cui vogliamo bene, anche solo appunto, ripeto, solo per divertirci, e bisogna dirle le cose come stanno. Oppure non è nemmeno vero, al contrario, che siamo totalmente altruisti, è stupido essere altruisti e credere che dobbiamo essere tutti bravi, tutti buoni, che dobbiamo fare tutto del bene per gli altri, e infatti chi poi fa questo soffre altrettanto quanto l'egoista, se non di più pure per certi versi, perché pensa che deve comportarsi bene con tutti, deve essere buono con tutti, deve essere bravo con tutti e alla fine la prende sempre in quel posto, si dice normalmente perché l'essere umano non è così, perché se poi, e di solito chi è così altruista, poi diventa la persona più cattiva, perché amare tutti significa non amare nessuno. E dunque, qual è la vera soluzione per l'essere umano? Qual è la vera natura dell'essere umano? La vera natura dell'essere umano è quella di vivere in dei cerchi, dei gruppi sociali, in quelli che anche in altri video con te abbiamo chiamato un po' i clan, quindi gruppi di persone con un numero abbastanza limitato, che hanno un profondo rispetto e danno profonda priorità al loro gruppo di appartenenza. Guardate che questo fa parte proprio della natura umana, è biologico. E infatti noi quando stiamo in un gruppo di persone, anche momentaneamente, ci sentiamo bene se il gruppo è limitato. Se stiamo ad esempio in una curva di uno stadio, ebbene lì ci sentiamo da soli, così come ci sentiamo da soli se siamo da soli in una stanza. Dov'è che stiamo bene? Quando siamo in un gruppo di persone, per esempio pensate ad una tavolata di un ristorante in una pizzeria con 20 amici, lì stiamo, guardate, stiamo bene. Andiamo in un posto dove ci sono 100, 200 persone, 500 persone, 1000 persone, anche se mangiano sempre la pizza, anche una mega tavolata, ad esempio non so se avete mai visto quelle, sicuramente sì, naturalmente, ma adesso non si vedevano da un paio d'anni, nelle fiere, oppure all'Octoberfest, quelle tavolate, quei tavoli infiniti, lunghissimi, ebbene lì ti senti sempre solo, e alla fine stai sempre col tuo gruppetto di amici, se sei andato all'Octoberfest o da qualche altra parte, stai sempre col tuo gruppetto di amici. Ebbene, questo è un concetto fondamentale che purtroppo oggi nessuno tiene più in considerazione, nessuno, nessuno, e quando dico nessuno è nessuno, perché se voi ci fate caso, anche chi propone soluzioni parla o di masse, dobbiamo risolvere i problemi del mondo, dobbiamo unirci tutti insieme, salvare il mondo, salvare quello che volete, oppure di altri che dicono, fanculo tutto quello che circola in giro, me ne sto per fatti miei, e così via. Sono due stupidaggini in tutti e due i casi. Quindi quello che noi stiamo proponendo è che è difficile far passare un po', e questo è il concetto del gruppo, ed è difficile farlo passare, non perché, come abbiamo visto adesso, sia qualcosa di strano, anzi, è quanto di più naturale nell'essere umano, ma perché è sparito dai nostri vocabolari, dal nostro vocabolario quotidiano, non c'è più il concetto del gruppo, dei gruppi di amici veri, veri, gruppo di amico vero, significa che all'interno del gruppo tu ti rispetti in maniera assoluta, tu mantieni il concetto del dovere, tu hai il rispetto verso l'altra persona, noi invece, oggi come oggi, tendiamo a fare esattamente il contrario, tendiamo magari a trattare bene l'estraneo, e poi magari ai figli, ai genitori, o agli amici, o a chi è dalla parte del gruppo di appartenenza, a dare tutto in maniera superficiale, invece, è esattamente il contrario, perché il gruppo si crea, quando si crea un senso di appartenenza all'interno, il senso di appartenenza diventa iper delicato, Sì, senti, quando l'altra volta stavamo accennando ugualmente a questa questione dei clan, o comunque dei gruppi di appartenenza, abbiamo fatto accenno anche al fare delle cose, cioè al mettere in atto delle cose, e mi sono resa conto anche dai commenti che abbiamo ricevuto sotto ai nostri video, che probabilmente è un concetto che è stato forse non ben compreso da tutti, o comunque forse non ben spiegato da noi, laddove non necessariamente bisogna fare delle prove di forza, o di chissà quale entità di pericolo, per essere appartenenti a questo clan, ma comunque tra persone che siano corrispondenti, tra persone che siano empatiche, tra persone che possano condividere determinate esperienze, ma soprattutto l'unica visione della vita. Ma certo, ma quella è la base, quello è ovvio che è la base, cioè il gruppo di appartenenza, creare i gruppi, creare questi clan, e ripeto di nuovo, il concetto che c'era una volta che era quello dell'amicizia, ma dell'amicizia vera, il problema qual è? Che tu per creare amicizia vera, era come ti dicevo prima, come dicevo a chi ci sta ascoltando pure prima, devi creare un forte senso di appartenenza, per creare un forte senso di appartenenza, deve esserci un forte senso del rispetto tra gli individui, ma per creare queste cose, quello che poi sfocia nel concetto di onore, che è una bella parola, non è una parola brutta, l'onore cos'è? L'onore è quando io agli occhi di una persona, risulto onorevole come dicono in Giappone ad esempio, o un uomo di onore come dicono altri ad esempio anche in Europa, che se ci fate caso, corrisponde sempre a un uomo di rispetto, cioè merita il rispetto, come vedete questo concetto qui è fondamentale, qual è il problema? Che per creare questo, ed uscire fuori dallo schema, della semplice amicizia da serata, e che ti vedo adesso e non ti vedo più, e io purtroppo mi è capitato di vedere tante volte delle persone, di ascoltare delle persone e dirmi, io mi conosco con tizio Concaio da vent'anni e non ci siamo mai visti di giorno, cioè capite? Cioè era solo la compagnia della bevuta della birra la sera, di andare allo stadio, di fare qualche cazzata e finiva lì, alcune di queste persone mi hanno detto che una volta nati anche i figli, non sono mai andati a trovare i figli di queste persone, quindi non è amicizia questo, questo è ritrovarsi, sfruttare l'occasione dell'effetto gruppo, come dicevamo prima, necessario alla biologia umana, per passare un paio di ore, cinque ore, tre ore, insomma per divertirsi un attimo, per creare la vera amicizia, come dicevo prima, bisogna creare quel concetto di senso di appartenenza, che si basa sul rispetto reale, quindi sul concetto che dicevo prima di onore, per fare questo, oltre all'ideologia comune, bisogna fare anche e intraprendere dei principi importanti, delle prove con se stessi, ad esempio, se un amico ha bisogno di 200 Euro, vi faccio un esempio, un esempio proprio banale, senza esagerazione, comporta un minimo di rischi, perché oggi per una persona comune, magari tirare fuori 200 Euro e darle ad un amico, sono soldi, quello è un rischio, quello è un rischio, ma un vero amico non ci pensa due secondi, a tirar fuori i soldi e a darli, e nemmeno a pretendere poi di averli restituiti, dici tu tieni, poi se un giorno ce li avrai per, me li ridarai, altrimenti non fa niente, chi è che fa oggi più una cosa del genere? Nessuno, e sapete perché? Perché oggi sono tutti amici e nessuno è amico, nessuno si riconosce più nella cerchia, nessuno costruisce più una cerchia, perché attenzione, pensare di essere amici di tutti, ve lo ripeto di nuovo, significa essere amici di nessuno, quindi diffidate sempre delle persone, prima regola, delle persone che dicono di essere amici di tutti, mentre in realtà il trucco è creare questa squadra, questo gruppo, questo team, questo clan, che è più bello come termine, non c'è che ti rende subito l'idea, questo clan in cui ci si aiuta a vicenda, e quel clan crea un noi, noi siamo questo, gli altri sono altro, si possono creare amicizie tra clan o tra gruppi appartenenti, ed è un'altra storia, un altro discorso, ma bisogna innanzitutto creare quel clan, quel nucleo. Sì, sì, ma infatti poi la parola clan subito ti fa venire in mente, no? Anche altro tipo di discorsi, la famiglia è un po' quello che ti rappresenta di più, cioè tu passi dalla famiglia che è il tuo primo nucleo, a quella che è l'amicizia stretta con pochissime persone, e anche quello è un clan. Ora, è vero che noi abbiamo avuto due anni veramente molto difficili, in cui paradossalmente ci sentiamo molto più clan, con persone che neanche probabilmente abbiamo mai visto, per motivi legati proprio alle scelte che abbiamo compiuto, per cui è facile oggi che ci si ritrovi di più, tra gruppi di persone, come dicevi tu, tra clan, tra cerchie di appartenenza che la pensino nello stesso modo, ma perché in questo caso la paura, per esempio, lo sconforto, anche tutte le varie segregazioni, tutte quante le cose che abbiamo dovuto subire, per molti aspetti, ci hanno unito proprio alle persone che stanno o stavano nella nostra stessa situazione, abbandonando invece, allontanandoci paradossalmente dagli amici storici, quelli di una vita, e addirittura talvolta anche dagli stessi membri della nostra famiglia. Certo, sì sì sì, hai fatto un quadro perfetto, è proprio quello che intendo, infatti, il clan, alla fine che cos'è? È un gruppo di famiglie, se andate anche a cercare sul vocabolario, porta proprio questo, ma non dice gruppo di famiglie, per forza tutti imparentati tra di loro, semplicemente, gruppi di famiglie che si riconoscono, in una visione del mondo, quel gruppo di famiglie, diversi gruppi, diversi clan, creano una tribù, quella che, come dicevi tu, ha creato in questo periodo, contrapponendoci a quello che abbiamo vissuto in questi due anni, tra le persone che per via della paura, dello scontro, paura nel senso lato del termine, non nel senso assoluto, perché magari qualcuno potrebbe dire, io non ho paura, giustamente, però ho paura nel senso dello scontro con la potenza, con il potere assoluto, con il potere con la P maiuscola, questa situazione ha creato una tribù, ed è una tribù, il problema quale? È che è una tribù senza clan, e infatti vediamo tanti individui che vagano in giro dentro questa tribù, ed è sempre come un non avere un nulla. Quello che noi, io e te stiamo proponendo, quello che fa parte, anche dalla base della filosofia dello stoicismo, è creare questi gruppi all'interno di questa tribù, sono fondamentali, perché dovete riconoscervi con delle persone di cui fidarvi veramente, è da escludere anche nel momento in cui perdono la vostra fiducia, perché funziona così, perché vedete, lo so che può sembrare un concetto duro, però io mi riconosco, solo se creo quello che dicevano i romani, un limes, devo creare un limes, devo creare un cerchio, devo creare un punto dove dico, qui sto io, qui stanno i miei, e lì stanno gli altri, se faccio questo, se creo il limes, creo quello che dicevano gli antichi, una città, per creare una città ci devi fare un cerchio intorno, altrimenti continua a essere tutto dispersivo, quindi dovete creare un vostro limes, un limes che crea il vostro clan all'interno tra le persone di fiducia, e significa, vi ripeto, anche non dare fiducia a tu cura, deve essere meritata questa fiducia, altrimenti torniamo al discorso dell'amicizia e della bevuta della sera, perché questi non sono amici, perché non hanno questo concetto, invece bisogna creare questi gruppi, che la situazione che ha creato, che si è venuto a creare in questi due anni, che ha già creato un attributo, consente la possibilità di creare questi veri clan, quindi il nostro invito qual è? Cercate di creare ognuno il vostro clan, il vostro club, di amici, tra varie famiglie, quindi come funziona in sostanza? Ci sono tre, quattro vostri amici, cinque con famiglia o senza famiglia, non importa, c'è il vertice, unitevi, fate squadra, iniziate a creare squadra reale, aiutatevi a vicende, ieri prima ho fatto l'esempio dei 200 Euro, per esempio, o se avete bisogno, se qualcuno ha bisogno di aggiustare qualcosa, di difficoltà, dicevamo l'altra volta, anche fare le serate ovviamente insieme, fate squadra, squadra, e ad un certo punto dite, noi siamo questo, ma lo dovete dire, uscite dallo schema del buonismo, siamo tutti bravi, tutti buoni, no, c'è il vostro gruppo, e guardate con diffidenza gli altri, se poi meriteranno la fiducia, datela, è una visione molto antica, ma molto reale, perché appartiene alla nostra, non solo alla nostra storia, appartiene proprio alla nostra biologia, siamo fatti così. Sì, sì, ma mi piace questa conclusione, perché ricordo che insomma, per conferenze, per unirvi anche a noi, a questo progetto, potete scrivere mail a direttamente, chiocciola, Beatrice Silenzi, Dicevo mi piace questo concetto, perché poi effettivamente, è proprio quello che fa sì, che le persone possano essere, intrinsecamente legate, e abbiamo bisogno di ritornare, se vuoi, al nostro passato, sebbene recente, perché insomma, probabilmente c'è stato un periodo, non troppi decenni fa, in cui ci sentivamo molto più uniti, di come siamo oggi, però è necessario, dicevo, ritornare sui nostri passi, perché questa è una soluzione propositiva, a differenza delle altre situazioni, che vengono talvolta proposte, in cui si chiede un allontanamento dalla società, un chiudersi, oppure un rinunciare a vivere, nella società in cui siamo, invece noi restiamo in questa società, ma cerchiamo di cambiarla, cerchiamo di eroderne alcune negatività dall'interno, per restare comunque a vivere qui. Diciamo riplasmarla, riplasmarla, vorrei solo aggiungere un secondo, una cosa perché mi è venuta adesso in mente, ricordandomi alcuni commenti, che mi era capitato di leggere, anche su altri miei interventi, su altri canali, insomma su altri posti, che attenzione non significa isolarsi, per darvi un'immagine, l'obiettivo è magari un giorno, ci ritroveremo, questa tribù si ritroverà, che ne so, a Piazza del Popolo a Roma, dove tante tribù, e tanti clan insieme, nella propria tribù, per darvi un'immagine proprio fisica, perché sappiamo, l'essere umano ha bisogno delle immagini, per avere anche l'idea, quindi questo è l'obiettivo, oppure nelle vostre stesse città, che vi riunite di tanto in tanto, o nei paesi, o ovunque uno poi vive, però immaginate questa scena, riuscire a creare tanti clan, che fanno parte di questo club, di questa tribù gigantesca, e dove arriveranno pure un giorno, ma ieri a riunirsi tutti insieme, su questa grande piazza, in cui potremo parlare, fare quello che vogliamo, e dove però ognuno si riconosce, nel proprio clan di appartenenza, e condivide con gli altri gruppi, della stessa tribù, quindi della stessa visione del mondo, come vedete niente di, cioè è talmente innovativa, come visione che in realtà appartiene, alla nostra natura umana, dalla notte dei tempi. Grazie Michele per essere stato con me, buona giornata. Grazie a te Beatrice. Se ti piace il nostro progetto culturale, sostieni con una donazione, Fabbrica della comunicazione, informazione differente. Iscriviti al canale YouTube, e alla newsletter, per non perderti gli aggiornamenti. Segui tutte le interviste sul sito fabbricadelacomunicazione.it, anche su Telegram, e sui principali social, ed in podcast, su Spotify. Insieme, possiamo costruire un mondo migliore. e aiutare un mondo migliore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.